buongiorno bentornati sul mio canale il canale di metal creative art oggi parleremo di ecco come prima cosa adesso vediamo come sostituire la lama del seghetto la dentatura deve sempre essere rivolta in avanti in questo modo adesso svitiamo la farfalla leggermente in seguito togliamo le due viti che tengono la lama prima una e poi l'altra mettiamo la lama nuova sempre dentatura in avanti rinfiliamo dentro le nostre vitine ecco una stringe anche l'altra quindi adesso si tira la farfalla e portiamo in tensione la lama controlliamo che tutto è in ordine vediamo un'ultima stretta forte un pochettino deve flettersi la lama ecco voilà la lama è stata cambiata una volta segnato con una cadenza di una spinta al secondo circa del seghetto iniziamo a tagliare mi raccomando si taglia solo spingendo e invece tirando si deve essere leggeri sulla lama e così si taglia e voilà il nostro tubetto è tagliato spero il video vi sia piaciuto spero anche di avervi dato una piccola chicca in più vi ricordo inoltre di iscrivervi al mio canale e se il video vi è piaciuto di mettere un like e attivare la campanella delle notifiche ciao ciao alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti